All right, all right, all right, allora è giunto il momento dei saluti, la vigilanza sta per arrivare a sbatterci via quindi ce ne andiamo prima noi, un grazie prima di tutto a tutto questo meraviglioso pubblico di Lucera, fatevi un grande applauso a Max Cazzella, sua grande band che ha suonato prima di noi, un onore, Love and Peace, a Marco e a tutto il service che ha permesso a voi questa sera di ascoltare questi magnifici suoni e a tutti un grande arrivederci dai caro mamma da qualche parte quest'estate sotto le stelle, a presto, ciao caro mamma da Torino, maiali! E' un animale molto comune che non ha la coda e non ha le piume come noi cammina in piedi, ma non è un uomo quello che tu vedi, anzi devi farci attenzione, lui morde tutto quanto senza esitazione, ed anche quando appiena la pancia, quello che può di certo se lo mangia! Ah ma che strano animale, ce ne sono molte specie, ah ma che strano animale, tra loro grandi i nemici, ah se tu guardi meglio vedrai, che sono tutti uguali, ah ma che strano animale, maiali! E mette un verso davvero strano, che ti può sembrar la voce di un uomo, ma ancora oggi quello che dice, resta un mistero che non si capisce, e un'altra cosa curiosa, sotto il sedere è una grande ventosa, che si attacca sulle piltrone, non viene via neanche col cannone! Ehi! Ah ma che strano animale, ce ne sono molte specie, ah ma che strano animale, tra loro grandi nemici, ma se tu guardi meglio vedrai, che sono tutti uguali, ah ma che strano animale, maiali! L'ha operato Max, e ora Busta Group! E poi trovate quasi tutti quanti i colori, sono bianchi, sono verdi, sono rossi e neri, a me mi viene il dubbio che siano tutti amici, tutti quanti uguali, ah maiali! Vedrai le loro faccia di fusione nazionale, però non durante qualche, ma nel telegiornale, a me mi viene il dubbio che siano tutti amici, tutti quanti uguali, ah maiali! E quando la stagione degli amori si avvicina, si mordono, si ruffano ancora più di prima, a me mi viene il dubbio che siano tutti amici, tutti quanti uguali, ah maiali! Però in ogni razza è Darwin che lo dice, arriva prima o poi l'evoluzione della specie, vediamo in questi giorni con potibili segnali, ma ci sono ancora troppi, maiali! Grazie a tutti, buonanotte, cara mamma! Ciao 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 ciao! Ciao ciao ciao! Grazie, cara mamma Ciao a tutti, buonanotte Grazie, buonanotte Grazie, Lucera